Ciao a tutti! Solitamente quando un fornello non funziona, per il 99% dei casi è sempre l'ugello. Sembra difficile ma andiamo a vedere in un minuto come smontare l'ugello e come pulirlo. Vi occorrerà una chiave a bussola, ovvero la chiave esagonale da 7 a tubo e poi un comune ago. Alziamo il bruciatore e praticamente questo cosettino qui che vediamo a forma esagonale è l'ugello. Andiamo a svitarlo, eccolo qua. Con lo spillo andiamo a premere, ecco qua. Questo adesso è libero, gli diamo una soffiata e lo rimettiamo a posto. Inizio ad avvitare con le dita così come ho svitato l'ultima parte e poi stringo ma neanche più di tanto con la chiave a tubo. Eccoci qui! Avete visto? In un minuto avrete sicuramente risolto il vostro problema. Ripeto, un ago e una chiave a bussola da 7. Solitamente sono da 7 gli ugelli, quindi dovrebbe essere da 7 la misura. Mi raccomando, se il video vi è stato utile lasciate un bel like e soprattutto condividetelo perché potreste aiutare sicuramente qualcuno che magari si dispera quando nota che i fornelli non funzionano. condividete appunto il video e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!